Il napoletano ti dà tanto calore, però devi essere capace anche di gestire quel tipo di calore perché altrimenti vieni distrutto. In che senso? Diventi proprio del popolo. So di attirare tanti ragazzi se vado a fare la spesa e si fanno le foto con me, ma le faccio volentieri. Devo essere però consapevole del fatto che superata la porta di casa mia, arrivano tanti ragazzi e tu devi stare così e se fai la foto uno la devi fare con tutti. Allora se ho i coglioni girati, tra virgolette, non esco proprio.